Vitale Barberis Canonico è uno dei più antichi lanifici al mondo, impegnato da oltre tre secoli nella produzione di tessuti eccellenti per l'abbigliamento formale maschile. Grazie per la visione! Vitale Barberis Canonico è una azienda 100% made in Italy, orgogliosamente made in Italy. Noi siamo basati nel distretto Tesside Biellese e tutte le fasi produttive avvengono qui. Gli oltre 200 passaggi che vi sono tra la materia prima e il tessuto finito avvengono qui, nello stabilimento di Pratrivero e nell'altro stabilimento a soli tre chilometri nel piccolo paesino di Prai. Oltre a ciò, quello che è invisibile è il know-how delle persone, degli oltre 400 addetti di Vitale Barberis Canonico che lavorano per questa azienda, una tradizione che si tramanda nei secoli, perché pensate che generazioni e generazioni di persone che abitano in questo territorio hanno lavorato in questa azienda e continuano a tramentare un mestiere con mestiere unico, un saper fare che è il saper fare italiano, che è il saper fare del distretto Tesside Biellese che ci rende speciali, unici e eccellenti in tutto il mondo.